Amici sportivi Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Handebol Mania Secondo appuntamento stagionale Ospite di questo secondo numero Il presidente della federazione italiana Gioco Handebol Pasquale Luria Che ringraziamo per aver raccolto il nostro invito Come sempre in compagnia di Matteo Aldamonte Che insomma si procaccia Ex giocatore di pallamano Ha testato il pallone Poi ci dirà qualcosa in più Dopo averlo verificato in corso d'opera Questo è un refrain che andrà avanti Per l'intera stagione Intanto è partito Il campionato, un campionato molto importante Poi faremo il punto Sulla prima giornata Il sentimento del movimento qual è dopo Questo esordio, a 14 soprattutto Io penso buono Chiunque ho sentito contento Della nuova formula, del nuovo campionato Tutti pensano che Porterà dei vantaggi anche dal punto di vista Della crescita tecnica Quindi io penso che il sentimento Sia positivo Poi è chiaro che Dovrà essere verificato Nel corso dell'anno Ma penso che un campionato di questo tipo qua Di per sé vada meglio Di quello che c'era prima Non sono mancate le sorprese Matteo Senza dubbio ci sono stati risultati Interessanti Certo si sono confermate Intanto le grandi di questo campionato La Junior Fasano Che ha battuto sonoramente Il Bressanone Come anche Bolzano Prova di forza Per quanto riguarda la formazione altotesina Direi di vedere il servizio Che riguarda la prima giornata Con un risultato su tutti Intanto la vittoria Da parte del Merano In trasferta a Gaeta E poi il pareggio Tra Siena e Fondi Vediamo il servizio Troppo pochi I primi 60 minuti stagionali Per dire qualcosa di veramente concreto Della nuova Serie 1 maschile Poco ma sicuro Anche se qualche considerazione Su chi sta meglio E chi invece Già a settembre Dovrà rimettere assieme i cocci È certamente possibile Bolzano tanto per cominciare Ha dato un segnale chiaro Al campionato E alle contendenti Per lo scudetto La stagione scorsa Chiusa senza trofei È stata la molla Che ha portato La società altoatesina A rivoluzionare l'organico Affidato alla guida tecnica Del croato Boris Vorsek La vittoria contro Pressano Nel match of the week Un perentorio 26 a 21 Ha dato la dimensione Di un Bolzano Già in forma campionato E soprattutto pronto A ripartire da un Mate Volarevic Sontuoso tra i pali E da un nuovo arrivato Il pivot bosniaco Alilcovic Perfettamente integrato Nello scacchiere Difensivo e d'attacco Se sarà ancora Asse Puglia Alto Adige Lo dirà il tempo Di certo C'è che anche i campioni D'Italia dell'acqua E Sapone Junior Fasano Hanno iniziato Nelle migliore dei modi 32-24 Senza storia Al Bressanone E i giovani Bargelli e Bronzo 8 e 7 reti a referto Da subito Protagonistico Nella nuova maglia Fra sabato e domenica prossimi Intanto C'è la seconda giornata Salutare per Bologna United E M Foods Carburex E Gaeta Entrambi Reduci da una sconfitta Al debutto E a caccia di due punti Scaccia Pensieri Punti Che tanto servirebbero Soprattutto per il morale Al pressano di Dumnic Atteso però Dall'ostica trasferta In casa del Cassano Magnago Uscito con il bottino pieno Dalla trasferta di Cingoli E con una Moretti Già protagonista Prima gara fuori casa dell'anno Per l'Egosiena Impegnata a Bolzano E che intanto Si gode il punto Strappato alla banca popolare Di fondi Nel debutto di sabato scorso Era una primissima Per cui Mi ritengo soddisfatto Del punteggio Non posso essere soddisfatto Del primo tempo E di parte del secondo Alla fine Siamo riusciti noi A pareggiare Contro una squadra Che è comunque assortita Per viaggiare Nelle alte posizioni Della classifica E allora Mentre la regia ci propone Il quadro completo Della giornata Dal punto di vista tecnico I risultati Ecco Del primo turno Dal punto di vista tecnico Presidente Cosa ha detto Questa prima giornata? Ma io penso che Tambi ha detto Che comunque Sarà un campionato Abbastanza equilibrato E' chiaro Ci sono delle eccellenze Che Conosciamo tutti C'è Il Bolzano Il Fasano Il Conversano Che partono come favoriti Però penso che I risultati Abbiano dimostrato Che c'è un Sostanziale equilibrio Che perciò Il campionato Sarà vincente Che molte squadre Lotteranno Per Il Posizionarsi Il meglio possibile Che non è scontato La permanenza Nel campionato E poi Dal punto di vista tecnico Secondo me Questa prima giornata Ha detto che in tutti C'è La volontà Di far giocare i giovani Ecco Ha preceduto la mia domanda Ecco Questo è un tratto distintivo Che in qualche modo Ha accomunato un po' In tutti i club Del massimo campionato L'impiego massiccio Di tanti giovani I millennials Azzurri Hanno Indicato la strada Sì Probabilmente Anche il risultato Di quest'estate Di agosto La vittoria Di Tbilisi Hanno portato Un certo entusiasmo Si era già visto Anche in sede Di Diciamo Campagna E rafforzamento Che molte squadre Invece di puntare Come avveniva in passato Massicciamente Su giocatori esperti 35 anni Anche 40 anni Hanno cercato Di investire Su alcuni giovani Questo È molto positivo Ancora più positivo È il fatto Che alla prima giornata Di campionato Quasi tutti sono scesi In campo Ora speriamo Che la tendenza Continui Assolutamente Sì A proposito Di tendenze Indicazioni Un'indicazione Molto positiva Per le sorti Del club azzurro Della nazionale Guidata da Riccardo Trillini È giunta al termine Della gara Tra Bolzano E Pressano Direttamente Dalla voce Del vicepresidente Vicario Della Interazione italiana Gioco handball Stefano Piodini Vediamo Sarebbe bello Se Bolarevic Diventasse finalmente italiano Insomma Manca poco Speriamo Entro la fine dell'anno Speriamo Entro la fine dell'anno Stiamo lavorando Colconi In tal senso Il ministero degli interni Vediamo se come federazione Riusciamo a portare a casa Questo portiere Per la nazionale Che sarebbe di grande aiuto Sarebbe di grande aiuto Presidente Sì Sarebbe di Aiuto Sicuramente Il portiere è importante Vabbè Lo si è visto anche Nella partita Di domenica Come è stato determinante In alcune situazioni Stefano È un grande ottimista Quindi Speriamo che Abbia ragione lui Che per fine anno Volarevic Possa essere No Bene A proposito Quindi stiamo Introducendo In qualche modo L'ampio capitolo Dedicato all'attività Della federazione italiana A gioco handball Questa è una stagione Importantissima Perché è quella Che precede Il cinquantesimo Compleanno Della FIGIH 2019 Tante le attività Programmate Tanti gli appuntamenti Già scadenzati Impegni che Attendono Le nazionali Azzurre Ma tante altre cose Che la FIGIH Dovrà In qualche modo Organizzare Per vivere una stagione Da gran protagonista Vediamo Intensi Estremamente stimolanti E ad altissimo ritmo I mesi Che attendono la FIGIH E il movimento Della palla a mano Saranno un costante Banco di prova Un appuntamento Dopo l'altro Senza di fatto Soluzione di continuità Tantissimi Infatti Sono i fronti Su cui la federazione Guidata Dalla presidente Pasquale Loria È attiva E sta operando Contemporaneamente Alcuni dettati Dai risultati Che finalmente hanno portato Il sorriso Il riferimento ai millennials È chiaro Con la storica E doppia qualificazione Dell'Italia Under 18 Ai campionati europei Under 18 E Under 20 Dell'estate 2020 Che imporrà Agli azzurrini Alla FIGIH Un programma di lavoro Che non dovrà lasciare Nulla al caso E che riguarderà Non solo La generazione Dei 2000-2001 Alle prese Con i pari età Dell'Under 20 Ma anche Soprattutto I giovanissimi Del bienio successivo Per i quali L'obiettivo sarà tangibile E da centrare A tutti i costi La salvezza Nell'Under 18 In grado di garantire All'Italia La prima divisione Anche negli anni a venire Una promozione Che sempre sul versante Dei giovani E delle giovani In particolare Stuzzica gli appetiti Di Liliana Ivaci E dell'Italia Under 17 Per la quale Gli EHF Championship Di seconda divisione Ovvero l'opportunità Per il salto di categoria Passerà per una chance Quasi unica Giocarsela in casa Nell'agosto prossimo Al pala Giovanni Paolo II Di Pescara Prepararsi Da un punto di vista Tecnico E rivelarsi all'altezza Sull'organizzazione Degli eventi sarà mission E obiettivo Di tutto il movimento E questo avverrà Anche in maniera Più imminente Più esattamente Dal primo al 4 novembre Prossimi Con l'organizzazione In Italia Sulla spiaggia di Catania Di un'altra Prestigiosa manifestazione Internazionale La Champions Cup Di Beach Handball Con i 32 migliori club D'Europa Pronti a darsi battaglia In terra siciliana Tutto in un momento storico Di enorme ascesa Per il beach Proiettato Verso una dimensione olimpica Che anche in questo caso Chiamerà in causa I colori azzurri E si parla sempre Sempre di giovani E sempre di millennials Sarà proprio la generazione Dei 2000-2001 La stessa degli europei A partire con La spedizione italiana Che ad ottobre Volerà a Buenos Aires Per le Olimpiadi Giovanili E anche quella sarà storia Di Beach Handball Si parlerà ancora Per un po' Con continuità Almeno fino al 2020 Altro riconoscimento E altro banco di prova Con l'assegnazione Da parte della IHF All'Italia E alla città di Pescara Dei campionati mondiali assoluti Maschili e femminili Tornando all'indoor L'attenzione agli eventi Allo spettacolo All'esperienza degli appassionati E perché no Al potenziale valore commerciale Della palla a mano È stata una costante Già nei mesi scorsi Ne sono testimonianza Il ritorno al girone unico E il seguito di pubblico Degli eventi Delle nazionali azzurre Su questi sarà importante Ripetersi da subito Il 27 ottobre a Padova Dove arriverà l'Ungheria Per le qualificazioni A Euro 2020 E ad aprile a Faenza Per la stessa manifestazione Ma contro la Slovacchia La strada è tracciata I versanti Come detto tanti E allora Buon lavoro Palla a mano Allora si fa fatica A mettere in ordine Un po' tutte le cose Che insomma In qualche modo Dovrà Onorare La federazione italiana Gioco a handball Nella prossima stagione Partiamo però Da un dato Che so essere Molto a cuore Della federazione Ovvero Le olimpiadi giovanili Vediamo Matteo Cosa bolla in pentola Sì perché questa Tra tutte le attività È quella che La FIGH Il movimento Della palla a mano italiana Vivranno come esperienza Per la prima volta in assoluto Come ascoltato nel servizio È un'esperienza Che spetterà Ai millennials Perché è arrivata Dopo l'argento Ai campionati mondiali Dell'estate 2017 Alle Mauritius Da parte della nazionale Under 17 Le olimpiadi saranno Under 18 Invece A Buenos Aires E proprio a Buenos Aires Nel fine settimana C'è stato il sorteggio Vediamo con l'aiuto della grafica Quelle che sono le avversarie Degli azzurrini Che trovano sulla propria strada L'argentina Che è la squadra padrona di casa E che ha avuto la possibilità Di scegliere il suo raggruppamento E poi Soprattutto il Portogallo E soprattutto la Croazia Che è la squadra Che peraltro ci ha fatto male Gli ultimi campionati europei Under 18 Nell'estate scorsa Perché appunto Ci ha eliminati Mentre si aggiungeranno Poi Paraguay E Mauritius Per questo raggruppamento Che darà il posto Fino al passaggio del turno A sole tre formazioni Tre squadre Con il Girone dell'Italia Che vede quattro papabili Però per il passaggio del turno Perché appunto Italia Argentina Portogallo E Croazia Vedremo come andrà Allora Presidente Sarà veramente Una stagione importante Quella che abbiamo appena inaugurato No? Due stagioni importanti Perché Il calendario degli appuntamenti Che avete delineato È fino Al 2020 Quindi praticamente La direzione sui mondiali Si pesca Anzi Sarà tutto in crescendo Perché Poi l'estate più torrida Sarà quella del 2020 Tra mondiali di Beach Handball E Europea Under 18 Under 20 Ci sarà Effettivamente Da Impegnarsi molto E da mettere in gioco Tutte Le nostre qualità Le nostre forze Il nostro lavoro Che deve partire Da subito Deve investire un po' Tutte I gruppi E le squadre Che saranno impegnate E Deve essere Finalizzato Al massimo All'ottenimento Del risultato di crescita Che ci siamo posti Tecnica Ecco Come arriva L'Italia L'Italia Il movimento A questi appuntamenti A queste sfide Ma Secondo me Arriva Abbastanza bene Quest'anno E' stato Un anno importante Perché Abbiamo aumentato Molto le attività Tutti hanno risposto Al meglio Sia i club Che Non dimentichiamo Li sono sobbarcati Per entrare In Serie A 1 Una serie di spareggi Interminabili Alla fine Della scorsa stagione Sia I giocatori Perché Abbiamo Quadruplicato I giorni Di stagio Per ogni singola Nazionale Quindi Anche per loro L'impegno Il sacrificio E lo sforzo E' stato molto importante Tutti i tecnici A partire dai tecnici Federali Che hanno profuso Un grande sforzo Di programmazione E di lavoro Sul campo Quindi Il movimento Il movimento Secondo me Arriva bene Arriva con La giusta energia La giusta forza La giusta Determinazione Chiaramente Tante cose Devono crescere In questi prossimi anni A partire Anche Dal bilancio Della federazione Perché E' importante Che Ci siano Delle entrate Diverse E ulteriori Rispetto a quelle attuali Perché Chiaramente Un bilancio Tarato Su un certo tipo Di Di attività Potrebbe Cominciare a soffrire Con un altro tipo Di attività E' questo Insomma Credo che E' una sfida Extrasportiva Non si gioca Sul 40 per 20 Si gioca In altre Sedi Ma altrettanto Importante Probabilmente Ancora più Decisiva Per le sorti Della palla Manitaliana Ora ci fermiamo Pochi istanti di pausa Alcuni Spot Promozionali E poi ritorniamo Di nuovo in studio Lo scorso anno Le Next Gen ATP Finals Hanno introdotto Una rivoluzione Nel tennis Con nuove Emozionanti regole Un'atmosfera Elettrizzante E otto storie Di astri nascenti Di interesse mondiale Che proiettano il tennis Oltre i propri confini A novembre Le Next Gen ATP Finals Tornano con tante novità E nuovi protagonisti Sarà uno spettacolo Mai visto prima Acquista oggi I tuoi biglietti Su nextgenatpfinals.com Il futuro È adesso E allora partito Il massimo Campionato maschile Ne abbiamo ampiamente Trattato Poi ci ritorneremo Proprio in coda Ora tocca All'altra metà del cielo Matteo Esattamente Dove si riparte Dallo scudetto Cucito Sulle maglie Della IOMI Salerno Che dovrà difendersi Però dall'assalto Non più del conversano Che come è noto Come sappiamo Ha rinunciato Come società Al massimo Campionato femminile Ripartirà dalla Serie A2 Ma è lunga La coda Di potenziali contendenti Per la formazione campana Vediamo il servizio Per scoprire Come si stanno Attrezzando le squadre Della massima serie femminile Lo scudetto cucito Sulle maglie Della IOMI Salerno Per il secondo anno Dieci squadre al via E l'inizio fissato Al 15 settembre prossimo Per una regular season Che si protrarrà Fino al prossimo 30 marzo Queste le coordinate Della Serie A1 Femminile edizione 2018-2019 Che si aprirà Perciò sabato Con le prime cinque gare In calendario Sarà Come per gli uomini Una stagione speciale La numero 50 Nella storia Della pallamano italiana Dato Che dà un valore simbolico Non indifferente Al titolo Per cui si giocherà Un titolo che Salerno Vorrà difendere a tutti i costi Nonostante le novità Portate dall'estate Le partenze di Ruppets Dalla panchina E di Prunster Tra i pali Hanno indubbiamente Mutato gli equilibri Del roster campano Che ha accolto invece L'italo-cilena Piantini Come nuovo portiere La mancina Oliveri E soprattutto Il croato Dragan Raic In panchina Salerno Non avrà più La rivale per eccellenza Di questi ultimi anni Il conversano Con il tandem Dirigenziale Roscino Fanelli Che proiettato Sul versante maschile Ha scelto Di ripartire dalla Serie A2 Audizioni aperte Per diventare L'antisalerno dunque Diverse le candidate Occhio a Bressanone Rafforzata Dall'arrivo di Giada Babbo Indubbiamente Tra le più forti Giocatrici Di un campionato Che intanto Oltre a Prunster Ha salutato Anche un'altra Azzurra Bianca del Balzo Anche lei volata Nel campionato polacco Con la maglia del Pogon Ripercorrendo la classifica Dalla passata stagione L'Oderzo Di Neven Andreasic E il Cassano Magnago Affidato invece Allo giovane Matteo Bellotti Sono altre due principali Indiziate per ambire Ad un posto al sole Dove sole Si legge Playoff Tante Tantissime novità In casa dosso buono Crosta da Flavioni E la colonia Giunta da Ferrara Con poderi marrocchi Costa Brunetti Si sono aggiunte Alle conferme Della passata stagione A partire dalla Tecnico spagnolo Escanziano Sanchez Le veronesi Potranno contare Perciò su due squadre Fattore questo Da non sottovalutare In una stagione lunga E ricca di scontri diretti Sabato sarà il giorno Del debutto Anche per la casa Il grande Padana Semifinalista scudetto Lo scorso anno E allenata dal Confermatissimo Yassin Lassouli Come anche Restando in Emilia Per la Riosto Ferrara Di scena Sul campo scudettato Di Salerno A completare il novero Delle dieci squadre Che si terranno battaglia Quest'anno Flavioni e Leonessa Brescia In un campionato Destinato a rivelarsi Estremamente livellato Nei valori E avvincente Nella sua evoluzione Presidente Si può essere Altrettanto ottimisti Anche nel settore femminile? No Secondo me no Il settore femminile Ha problemi Un po' diversi Da quello maschile Nel settore maschile C'è una base Abbastanza larga Non abbiamo avuto Difficoltà A costituire La serie 1 A girone unico A quattro di sue squadre Per la verità Non abbiamo avuto Difficoltà Nemmeno con la 2 Tranne qualche problemino Nel girone C Sud Ma derivante anche Da alcune situazioni Particolari Delle società Coinvolte In queste vicende Quindi Magari non Ecco problemi Di sistema Ma problemi Singoli Delle singole Società Nel femminile Purtroppo La base È più stretta E questo Lo si vede Anche in Serie 2 Lo si vede Nei campionati giovanili Non c'è la possibilità Per esempio Da anni Di fare una B Regionale Le categorie Soprattutto La categoria Giovanile Più elevata L'Under 19 Soffre Sia Nelle fasi Regionali Sia Nella fase finale Nazionale Quindi Il settore Femminile Ha dei problemi Ecco La federazione Ha pensato A possibile Terapia Ma guardi Io non ho vergogna Di dirlo Col femminile Stiamo andando Anche per tentativi Non c'è Un In questo momento Un'idea Come posso dire Sicuramente Vincente Il problema È che Ci sono Poche società Ci sono Poche squadre Ci sono Poche giocatrici Quindi Un'idea Immediatamente Vincente Che possa Cambiare Il corso Delle cose In breve tempo In maniera Istantanea Non esiste Quindi bisogna Lavorare Sulla base Stiamo cercando Di farlo Anche Attraverso Degli Incentivi Attraverso Anche Alcune Riflessioni Sulle Categorie Giovanili Però La strada Belle femminile È sicuramente Più lunga E più accidentata Rispetto a quella Del maschio Tra poco Matteo ci darà Conto Della prima giornata Del quadro completo Della prima giornata Del massimo Campionato femminile Intanto Questo campionato Rispetto a quelli passati Sensazione È chiaro Ancora non è cominciato Si presenta Un tantino Più equilibrato Forse anche Perché Si è ridotto Il numero Delle contendenti No? Ma sicuramente Sì Siamo passati Da 14 Che era Un'assurdità Di due anni fa A 12 Che è La taglia Che almeno io Personalmente preferisco A 10 squadre Questo significa Che Poi le giocatrici Si sono Redistribuite Il campionato femminile È stato in realtà Equilibrato Anche negli anni Passati Se si esclude Questo Duopolio Salerno Conversano Oggi Conversano Non c'è più E questo Veramente È stato Un Un grosso Dispiacere Ma anche Una sconfitta Per il movimento Femminile E qui Da qui Quelle Mie parole Precedenti C'è molto da fare Certo E c'è Sicuramente Meno Base Di partenza Rispetto Al movimento Maschile Quindi Il campionato Sarà sicuramente Equilibrato La differenza Dei valori tecnici Tra la pallamano Femminile italiana E la pallamano Internazionale L'abbiamo vista Anche nel preliminare Di Champions Dove Salerno Non sfigurando Affatto Comunque È uscita Giocando Una buona partita Con un risultato Diciamo Accettabile Con l'Uplima Prendendone 20 Poi Dai campioni Di Spagna Del Verabera Quindi La cosa importante Ecco Del femminile Rispetto al maschile E che almeno Si partecipa Un po' di più Alle competizioni Internazionali Ma noi L'anno prossimo Stresseremo Anche i maschi Quest'anno Non l'abbiamo Voluto fare Perché erano Già stressati Di loro Dal cambio Della formula Ma l'anno prossimo Cercheremo di stressare Il segnale È già forte e chiaro Sicuramente Bisogna partecipare Alle coppe europee Avviso ai naviganti Primo turno Matteo Vediamolo subito Con l'aiuto Della grafica Perché appunto Si gioca la prima giornata Debutto Casalingo Per Salerno Che ospita La Riosto Ferrara Poi a seguire Brescia Contro Loderzo Cassano Magnaco Flavioni Dosso Buono Leno E Casalgrande Padana Contro Bresanone Tutte queste partite Non soltanto Ma anche Le gare Del massimo Campionato Ad eccezione Di Trieste Fasano Saranno visibili In diretta Questa credo sia Una grande novità Di quest'anno Della federazione italiana Gioco Handball La diretta Handball Che è nata È partita È in assi di partenza Proprio sabato scorso Diciamo La conseguenza Naturale Di quello che abbiamo fatto L'anno scorso Abbiamo Fatto un grosso sforzo Sulla comunicazione Sulla visibilità Del nostro campionato E quindi Del nostro sport Non ci siamo Fermati Alle nazionali Sarebbe questo Il nostro compito Come federazione Ma abbiamo cercato Di valorizzare il campionato L'anno scorso Nella sua seconda fase Quest'anno Per intero Oltre alla tv Sport Italia Con la quale abbiamo Rinnovato L'accordo E quindi E questo ci fa Grande piacere Perché è un Emittente che Ci ha accolto benissimo E ci dedica Uno spazio Importante Tra cui questa Trasmissione Abbiamo cercato Di mandare Tutte le partite Di diretta Diretta Handball Significa Che ogni società Ha la possibilità Attraverso Una strumentazione Che la federazione Ha fornito Di riprendere Di mandare In streaming Attraverso Il cablaggio Dei campi Che sono frutto Di un altro Accordo Della federazione Con una ditta Specializzata In modo tale Che ogni sabato Possiamo avere Tutto il campionato Maschile E tutto il campionato Femminile Visibile In diretta Oltretutto Con una qualità Di streaming Veramente Ottima Sabato scorso Abbiamo visto Cinque ore Di palla a mano In continuità Dalle 17 Alle 22 E sabato Il piatto Sarà ancora più ricco No Matteo Decisamente più ricco Perché inizia Il campionato Femminile Si passa Dalle 6 partite In programma Sabato scorso A 11 partite Facciamolo vedendo Subito Il palinsesto Della giornata E un palinsesto Anche piuttosto Lungo da leggere Perché appunto Quelle in rosa Sono le gare Del campionato Femminile Tutte distribuite Tra le 18 E le 18 E le 30 Alle 19 Poi si parte Con le 6 gare Del campionato Maschile Per procedere Poi fino alle 20 E insomma Tutte le gare Saranno in diretta In live streaming Su Pallamano TV Raggiungibile Tanto dalla home page Del sito federale FGH.it Quanto da Pallamano TV Oltre che su tutte Le pagine Facebook E delle squadre Impegnate in casa Dico solo Che sabato scorso Con 5 partite in diretta Abbiamo superato I 21.000 accessi 21.000 contatti Su tutte le varie piattaforme Vedremo come andrà sabato Dove la mole di lavoro Anche oltre alla mole di Pallamano Sarà sicuramente più ampia Insomma è uno sforzo enorme Quasi impossibile da immaginare Fino a qualche tempo fa Che oggi invece stiamo mettendo in campo Credo con un ritorno legittimo di immagine E noi speriamo anche economico per tutti i club No? Sì Speriamo È un'opportunità questa Da non fallire Speriamo che i club anche Ognuno per la sua parte Riesca a sfruttare anche questo strumento A presentare un prodotto Ai propri sponsor O a potenziali nuovi sponsor Che sia Diciamo Queste operazioni L'abbiamo sempre detto Sono operazioni di stampo lega Cioè sono solitamente le leghe A produrre questo tipo di format E questo tipo di piano di comunicazione È stata la federazione in questo caso A venire incontro a queste esigenze Non era fattibile altrimenti In questo momento Stiamo pensando anche alla Lega C'è stata la settimana scorsa Una prima riunione Tra il commissario Brasini E le società È stato stabilito più o meno Un calendario E quindi Un ordine del giorno Sono dei lavori da portare avanti Da qui a qualche mese Si spera che nel corso di questo anno Si concretizzi la ripartenza della Lega E quindi col tempo Si riesca anche a riportare Questa attività E questo sforzo E investimento di comunicazione Nell'ambito suo naturale Che è quello dei club Per far sì che la federazione Ricupere spazi di bilancio E di risorse Per le squadre nazionali Sulle quali bisogna investire Siamo in chiusura Matteo Perché abbiamo da Insomma Ricordare l'appuntamento Con gli amici di Sport Italia Che è il match of the week La gara di domenica Alle ore 17 Il collegamento La gara tra Trieste E Junior Fasano Della quale stiamo vedendo Qualche dato Pochi per la verità Rispetto a quello Che il campionato Ha potuto dirci fino ad ora Possiamo dire che certamente Si affronteranno Una società Trieste Che è la storia Della pallamano italiana La più titolata E l'altra Il Fasano Che ha scritto La storia recente Della pallamano Perché ha dominato Negli ultimi sei anni Di fatto in alternanza Con il Bolzano Ore 17 Il collegamento Su Sport Italia 17.15 Il fischio d'inizio Bene Grazie Appuntamento Domenica Con Matteo Aldamonte Grazie alla presidente della Figgiacca Pasquale Loria Che ritroveremo Poi in corso d'opera Nel corso della stagione Per fare un po' Il punto Sulle attività Della federazione Tutto per questo Numero secondo Di Handballmania Ritorniamo giovedì prossimo Sempre alle 15.30 Di vederci Dove era messa All'incrocio dei panni Un gol pazzesco All'incrocio dei panni